mentre acciaierie d'italia ex silva vomita taranto di tutto di più basti guardare le immagini proprio di questi ultimi giorni ma non solo da sempre ma proprio guardate la coincidenza immagini di slopping paurosi ecco un servizio del tg5 in cui viene esaltata l'opera di ambientalizzazione di acciaierie d'italia sentite cosa dice la giornalista dal 2018 sono stati investiti 2 miliardi per l'ambientalizzazione degli impianti i materiali che alimentano la produzione vengono miscelati da strutture produttive dotate dei migliori filtri al mondo per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera beh mi sembra una forma di giornalismo asservito di giornalismo servile rispetto ad acciaierie d'italia è grave che la giornalista abbia esaltato questa presunta questa opera di ambientalizzazione che sta solo nella fantasia e non si sia invece rapportata con la città non si sia rapportata davvero con con quello che accade ogni giorno ascoltando la viva voce dei cittadini di chi abita per esempio al quartiere tamburi ma dico il quartiere tamburi perché la zona è l'area più vicina ma dovremmo parlare di tutta la città dei danni incommensurabili che partono da quello stabilimento e si propagano all'infinito e si capisce che è un servizio studiato a tavolino preconfezionato se si considera che acciaierie d'italia non fa mai entrare i giornalisti all'interno dello stabilimento per mostrare quanto accade di infernale là dentro soprattutto in concomitanza con i gravissimi episodi frequentissimi oserei dire giornalieri di emissioni inquinanti letali ascoltiamo cosa dice alessandro labile direttore responsabile ambiente e sicurezza dello stabilimento quello che uscirà da qua da ora in poi è un acciaio che ha un impatto ambientale quasi zero impatto ambientale quasi zero ma stiamo veramente dando i numeri basti considerare che le emissioni inquinanti con una produzione al minimo dico al minimo sono elevate in una maniera incredibile neanche se si produce a pieno regime e questo signore parla di impatto ambientale quasi uguale a zero io resto allibito sentite ora cosa dice vincenzo di mastro matteo direttore dello stabilimento ascoltatelo noi siamo pronti a dare un contributo strategico al futuro della siderurgia italiana creando valore per tutto il sistema valore per tutto il sistema ma stiamo impazzendo forse e quale sarebbe questo valore sarebbe un valore seminare tumori e morte a taranto sarebbe un valore ridurre i dipendenti in stato di miseria basti considerare che con le casse integrazioni non si arriva neanche a mille euro al mese sarebbe un valore creare un regime di terrore per il quale non si può minimamente dissentire all'interno dello stabilimento dinanzi a questo servizio non ho parole è uno schiaffo in faccia ai morti di cancro è uno schiaffo in faccia agli ammalati di cancro è uno schiaffo in faccia ai familiari di queste persone è uno schiaffo in faccia ai tarantini un'ottima 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 un'ottima